Carissimi amici, è un piacere ritrovarvi fra un cammino di Santiago e l'altro, ho appena concluso l'ottavo e fra una decina di giorni partirò per il mio nono cammino. Prossimo anno andiamo per la decima. Dunque, anche un po' nell'ultimo cammino che ho fatto, ma soprattutto poi incontrando gente, vedendo persone, ho notato quanto quella che viene chiamata instabilità e che non è una qualcosa di socialmente gradito. Quando normalmente ti dicono che sei instabile, non lo fanno per dirti il complimento. Noi abbiamo una società che richiede una maschera, che richiede stabilità, equilibrio, che richiede coerenza, soprattutto richiede coerenza, che richiede che tu indossi sempre la stessa maschera, perché se in un ufficio tu ieri eri in un certo modo e domani ti presenti che sei completamente l'opposto con altre idee. Ciao Deb, ti mando un grande abbraccio. Se ti presenti che sei in un certo modo e poi ti presenti che sei un altro, la gente rimane sconcertata, dicono sei impazzito, non sei più quello di ieri. Noi siamo sicuri che questo sia un difetto? Siamo sicuri che questa stabilità che ci viene richiesta, che ci viene indotta, che ci viene quasi imposta, sia qualcosa di benefico per lo sviluppo delle nostre coscienze, della nostra anima? Siamo proprio sicuri sicuri? Ciao Manuel. Ma in realtà la stabilità non è altro che una maschera che indossi, perché nessuno di noi è stabile. Ci sforziamo di essere stabili, ci sforziamo di essere equilibrati, ci sforziamo di apparire coerenti, a volte creiamo delle catene con questa coerenza, perché magari vent'anni fa abbiamo detto una cosa che adesso non fa più parte di noi, ma noi per coerenza continuiamo a insistere sulla linea che non ci appartiene più. Allora che valore hanno queste cose? Che valore ha la stabilità, la coerenza, l'equilibrio? L'anima è l'esatto opposto di tutte queste cose. Quanto la stabilità e l'equilibrio appartengono alla dimensione terrena o a dimensione materiale? Cosa c'è di più stabile della materia? La pietra rappresenta la stabilità per l'antonomasia, no? Sempre lì, immutabile nel corso dei millenni. Sì, ogni tanto mi è scalfito, ho da un po' di pioggia, ma sostanzialmente montagne, da quante terre geologiche le troviamo lì, da quanto più antiche di noi sono. Quindi la stabilità appartiene alla materia. L'instabilità appartiene all'anima. Ma perché ciò? Ma perché l'anima non è inquadrabile? L'anima non è regolabile, non è tarabile, non è condizionabile. È la mente che ha bisogno di stabilità. Perché ci può sedere. Ogni volta che la mente ti fa la richiesta di stabilità è perché tu vuoi sederti. Tu non vuoi riconoscere le emozioni che stai vivendo ora, le sensazioni che stai vivendo ora, i desideri che ti stanno balenando accanto ora. Ogni volta che la tua mente reclama stabilità ed equilibrio ti sta dicendo, no siediti, io voglio tenerti sotto controllo, io voglio che tu sia la persona che eri ieri. Perché così so come condurti, so come condurti verso la mortifera certezza che ti è sempre appartenuta, che ti hanno detto quella cosa giusta. Stabilità è morte. La morte è rigida. La vita è dinamica, la vita è fluida, la vita è incontrollabile, ingestibile. La vita è un cavallo bizzarro, indomabile, non sai cosa ti presenta, non sai cosa ti propone, non sai cosa ti aspetta. E l'anima vuole vivere questa situazione, è in questo contesto che vive, che si esalta, che si nutre. E quando tu nutri la tua anima stai bene. Tu quando è che stai male? Il 99% dei tuoi problemi, e ripeto, il 99,99% dei tuoi problemi, nasce dal fatto che ti stai opponendo a qualcosa che è in te, che c'è qualcosa in te che non vuoi riconoscere, che non riesci a esprimere, che non puoi rivelare. La malattia si insinua in questo spazio di non detto, fra quella che è la tua verità interiore e quella che è la verità che vuoi mostrare, fra quello che è l'esubero delle tue energie interiori e quello che invece è il blocco della tua maschera, delle rigidità che hai accettato, che hai accolto, perché queste rigidità ti rendono impermeabile al dolore, ti rendono socialmente ben accetto, ti promettono gratificazioni economiche, perché se tu sei affidabile, affidabile uguale, prevedibile, stagnante, morto, avrai una ricompensa in questa società, una ricompensa materiale, in termini di posizione economica, del conoscimento sociale, di apprezzamento, ma così facendo la tua anima muore. Più maschere ti crei, più la tua anima soffoca, più ti crei un binario, più ti sarà difficile uscirne, più tu segui questo binario, mentre la tua vita andrebbe altrove, più quella che è la tua verità interiore e quella che è la tua realtà in cui vivi, si allontanano, si separano e in questa separazione entra il tuo malessere, la tua malattia, il tuo disagio, la tua insoddisfazione, il tuo mal di vivere, la tua non gioia, il tuo alzarti la mattina con fatica, perché non ti alzi la mattina con fatica quando si chiudi la finestra e hai mille possibilità di fronte a te, vedi un sentiero che si perde nell'ignoto e vuoi seguirlo, anche se è un sentiero che lo vedi che è in salita, ma tu non avverti fatica, avverti la gioia di andare verso dove non sai, di scoprire cose nuove, di vedere cose nuove, di innamorarti di nuovo, di innamorarti di un paesaggio, di una donna, di mangiare cose nuove, conoscere altra gente, e lì non provi fatica, anche se vedi che è questo sentiero in salita, provi fatica quando continui a ripetere eternamente le stesse cose, le cose che hai fatto ieri, le cose che hai fatto l'altro ieri, che magari sono semplicissime, non richiedono nessun impegno, è un sentiero in discesa, ma l'hai già fatto, e il semplice averlo già fatto ti fa provare una sensazione di fatica, perché la tua anima prova fatica nel ripetere costantemente le stesse cose, perché non cresce, non si nutre, e quando la tua anima non si nutre, soffri. E la tua anima te lo dia in tutti i modi, piantala di seguire quel cazzo di sentiero, piantala di essere così tristemente prevedibile, fammi vivere, lasciami respirare. Ma la tua mente? No, assolutamente. La nostra mente vuole solo farci sopravvivere, e questa è la sua funzione, è nata come insieme a tutto il resto del tuo corpo, è cresciuta con l'energia delle tue cellule, fa parte di questo corpo, di questo mondo materiale, ed è volta a custodire la tua macchina biologica, a tenerti in vita, ma a noi di rimanere in vita nel 2018 non ci basta più. Noi vogliamo vivere, vogliamo vivere pienamente, vogliamo essere noi stessi, vogliamo poterci esprimere, ma ancora tutti viviamo di paure socialmente indotte, per cui ci mascheriamo, ci mascheriamo, ci trinceriamo dietro la maschera che ci è piaciuta di più, che è stata più accomodante, che ci ha servito. E allora ci schiacciamo, perdiamo vitalità, ci entristiamo. A me sconvolge sta cosa, a me sconvolge perché faccio anche fare delle attività che sono demascheranti. Quando fai un cammino, comunque il cammino ti spoglia, ti fa cadere tante costruzioni mentali, perché la fatica, la bellezza dei paesaggi, tutto ti richiamerebbe a qui e ora. Ma nonostante questo, la gente non si spoglia dalle sue maschere. Vedo sempre più raramente qualcuno uscire dal binario prestabilito. È quasi imbarazzante che io vedo una persona, mi aspetto che quella persona, riesco a prevedere come si comporterà quella persona. E questa persona non sente mai l'esigenza, sente l'esigenza di lasciare, di abbandonare il binario su cui si è messa, sente bisogno di abbandonare la parte che sta recitando, ma non ne trova la forza, non ne trova il coraggio, non trova la forza di mettersi a nudo. Perché mettersi a nudo ti rende criticabile, ti rende... ti dicono che ti succede, cosa ci hai nascosto di te. E allora tutti preferiamo mostrare la nostra immagine, la nostra maschera più bella che ci siamo costruiti. Ognuno si tiene la maschera che ci ha soddisfatto di più. Ci si incontra tra maschere, ognuno è riuscito alla sua parte, tutte cose già dette, tutte cose già risapute, e il mondo muore in questa triste messa in scena. E voi ve lo siete chiesti. Voi cosa avete fatto? Quante volte siete usciti dal vostro binario di prevedibilità negli ultimi... nell'ultimo mese, negli ultimi due mesi, negli ultimi sei mesi? Quando... quando ti dicono... Ah, ma sei... quando passano magari anni, ti dicono... vi ritrovate fra amici, ti dicono... Ah, ma sei proprio come ti avevo lasciato dieci anni fa. La tua mente lo prende come un complimento. Ma in realtà è imbarazzante. Cioè ti sta venendo detto che tu in dieci anni sei... non sei mai cambiato. Ma in realtà non è così. Tu dentro sei ovviamente cambiato, perché noi cambiamo ogni secondo. Ma tu ancora ti accanisci a indossare la stessa maschera che avevi dieci anni fa. E lo prendi pure come un complimento. Ti stai autodistruggendo e lo prendi come un complimento. Perché la società è furba. La società è fatta per ingannarti. La società è fatta per tenerti... per tenerti... per tenerti stabile. Per tenerti prevedibile. Perché ha bisogno di gente stabile, prevedibile per continuare. Ci mancherebbe pure che gli schiavi si mettono a seguire la propria anima. E la società non te lo permette. Diventi un problema per la società. C'era un bellissimo libro... non so se è scritto da Antonina Artaud... si chiamava I suicidati della società. In cui faceva un quadro di tutti coloro grandi artisti, musicisti, eccetera... che nella storia si sono... si sono suicidati... a volte su induzione... a volte su indizione della società... a volte lo scopo è stato uccisi dalla società che poi ha spacciato questo per suicidio. La società non vuole anima. Non ha bisogno di anima. Ha bisogno di automi... per continuare. Sei tu che se vuoi uscire da questo... ciao Gabriele... poi ne parliamo... sei tu che se vuoi essere una persona felice... che è l'unico traguardo che dovrebbe interessarti. Perché cosa c'è di più importante della felicità? Cioè la gente... la gente... ma se la leggete su facebook... ma sta fuori... sta completamente fuori. Cioè... ma c'è qualcuno di voi che si preoccupa di essere felice? O vi preoccupate solamente dei migranti... di quanti migranti arrivano... di quanti non arrivano? Ma preoccupatevi di essere felici e se non siete felici chiedetevi perché... ma quasi sempre la risposta sarà questa... che avete recitato troppo a lungo... che vi siete... vi siete identificati nella vostra maschera... che non avete avuto il coraggio di uscirne... di uscirne quando era tempo... che non trovate il coraggio di uscirne ora... che probabilmente non troverete il coraggio domani... se dentro non avete questo desiderio... rabbioso... indomabile di essere felici... di costruirvi un domani che sia migliore di questo presente... e non è che prendendovela con i migranti... col barbone... o con chi vi gira in questo momento... che la vostra vita migliora... la vostra vita migliora quando vi guardate dentro... quando vi chiedete... ma... io avevo dei desideri... dei sogni... cos'è che non ho portato a termine... cosa sto soffocando in me... cosa... cosa sto... cosa sto bloccando... cosa... cosa sto impedendo di fluire... perché mi sto impedendo di diventare quello che volevo essere... sì certo la vita con me è stata cattiva... ho avuto la sfortuna... questo... morto... l'avevo licenziato... perso... fidanzato... ma non conta niente... piantate a riscusarvi... il passato non è una scusa per giustificare... per giustificare quello che non siete riusciti a diventare... il passato è andato... dateci il testo benedetto... taglio... riconoscete in voi ciò che è morto... riconoscete in voi ciò che è morto e recidetelo... perché tutto quanto di morto tenete dentro di voi impedisce al vivo di emergere... tutta questa concentrazione di cose morte... di amori morti... di sogni morti... di delusioni... di desideri infranti che tenete dentro di voi... e su cui si stabilisce la vostra personalità... perché l'ego si riconosce nella sofferenza... l'ego si dissolve nella gioia... ma si riconosce nella sofferenza... quindi la mente ha bisogno di infelicità per darti un'identità... io sono... sono Paolo Rossi... ho sofferto... ho perso 18 lavori... mi sono... ho perso un braccio... ho perso... e allora il tuo ego gode... il tuo ego ha bisogno di primeggiare... ciao Stefania hai visto che ti saluto? la felicità non ha bisogno di identità... non ha confini da difendere... non ha leggi da darsi... non ha leggi da seguire... non ha maschere da indossare... fare la scelta di essere felici... significa esporsi... certo... ti esporsi alla vita significa prendere la giornata di bel tempo... e significa anche prendere il temporale... ma se tu ti copri perché non vuoi il temporale... non avrai nemmeno mai il bel tempo... non godrai la bellezza del sole che ti scalda la pelle... non godrai la bellezza del vento che ti sfiora... questo fa la maschera... ti protegge dalla sofferenza... ma ti protegge anche dalla vita... e a forza di proteggerci dalla vita siamo diventati quello che siamo... parodie di esseri umani... tristezze deambulanti... manichini... che fanno quello che devono fare... sono sposati con chi... con chi ha scelto di stare sposati 30 anni fa... fanno il lavoro e non hanno scelto di fare 30 anni fa... siete persone 30 anni fa... ma la persona che siete ora dov'è? il Paolo Rossi... il Paolo Rossi di dove è? dove siete? dove avete sepolto quello che siete ora? a me non me ne frega niente di parlare con quello che eravate 30 anni fa... con quello che credete di essere... io voglio interagire con persone... con le persone che siete ora... con le vostre emozioni... con quello che soffocate dentro... ciao Cristina... buonanotte a te... e invece Fiorella mi dice che sono come uno e sette nani... e prendiamo come un complimento pure questo... di solito sono Babbo Natale... adesso sono passato a fare uno e sette nani... e poi mi direi quale... tutto qua carissimi... io... mi identifico sempre col termine randagio... perché? perché randagio fa quello che vuole... perché randagio non ha domestiche... perché randagio non ha una maschera da indossare... la cosa più triste... è quando... sei obbligato... e tu accetti... di essere sempre... la stessa persona... uguale... indossare sempre la stessa maschera... ma prendetevi la libertà di essere altro... prendetevi la libertà di essere quello che siete... vivete senza paura del giudizio sociale... o se piango... se piango la società non piaccio... se rido troppo non sta bene... e invece l'anima ride sguagliatamente... piange disperatamente... perché l'anima non ha controllo... non ha limiti... non ha confini... e non si ne frega niente del giudizio... e tutto quello che interviene a bloccare... queste esondazioni... che vengono dalla tua anima... si trasformano in malattia a lungo andare... tutto ciò che voi reprimete... si trasforma in malattia... tutta la verità che c'è in voi... e che voi non volete... voi la vedete... ma non riuscite ad affermarla... perché avete paura... si trasforma in malattia... perché l'anima non è domabile... tra anima e mente... la mente morirà con questo corpo... l'anima è eterna... come fa qualcosa di non eterno... a essere più forte di qualcosa che è eterno... è chiaro che l'anima vince... è chiaro che alla lunga l'anima vince... quella della mente è una vittoria di Pirro... tu puoi impegnarti... e seguire la mente per tre... quattro... anche per anni e anni... ma alla fine la tua anima salterà fuori... e più l'è tenuta incatenata... più la sua rivincita sarà... sarà devastante... impara a fluire con la vita... danza con la vita... smettela di voler controllare la vita... che tanto è più forte di te... impara a seguirla... guarda dove ti vuole condurre... guarda cosa nasce in te... guarda tutte le meraviglie... tutti i semi che fioriscono in te in questo momento... e smettela di identificarti con il tuo passato... con le tue disgrazie... con i tuoi fallimenti... siamo tutti nati da un fallimento... siamo tutti nati da una disgrazione... tutti abbiamo una serie di lutti... nel nostro passato... la differenza tra una persona positiva... e una persona negativa... non è nella quantità di avversità... che ha avuto nel passato... ma in come l'ha superata... nella sua volontà di superarla... nell'andare avanti... e invece c'è chi continua... a identificarsi con cose che sono successe... 30, 20, 10 anni fa... e che nemmeno esistono più nella sua anima... sono solamente uno spauracchio... che la tua mente agita... quando vuole tenerti lì imbrigliato... allora liberatevi... è inutile che pensate a una liberazione fisica... a liberarvi della tirannia del capo ufficio... o della suocera... se prima non vi liberate dentro... se prima non imparate a tirar fuori... tutto quello che riprimete... la vera liberazione è questa... permette a voi stessi di essere ciò che realmente siete... andare incontro alla vostra felicità... tutto il resto non conta nulla... tutto il resto non conta nulla... il nanetto simpaticone che beve... non mi ricordo il nome... mi stanno paragonando a un nan ubriaco... non so se c'era dei sette nani... il nanetto bevitore... io vi lascio un grande abbraccio... e davvero... controllatevi meno che potete... squilibratevi... ma sappiate liberarvi... nei momenti di libertà... toglietevi questa benedetta maschera... e lasciatevi andare a tutte le vostre emozioni... non c'è un'emozione che sia indegna... indegno è soffocare le vostre emozioni... un grande abbraccio a tutti... io vi lascio... vi lascio con questo augurio... di sapere riconoscere... ciò che davvero concorre... a rendervi felici... da ciò che invece... è ancora dentro di voi... ma già non vi appartiene più... e non vi aiuta a essere felici... in alcun modo... sogni e andaggio a tutti...